Putin sta cancellando persino l'idea di essere ucraini. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, lancia l'accusa più pesante al suo omologo russo, quella di genocidio, un climax verbale che tocca il suo punto più alto dopo le accuse di criminale di guerra e macellaio. E l'ipotesi di una pace raggiunta grazie al dialogo e all'azione diplomatica si allontana di ora in ora. Secondo Biden le prove di uno sterminio razziale stanno aumentando, saranno i giuristi a livello internazionale a trarre le conclusioni su questo, ma per lui non ci sono già dubbi. Il portavoce del Cremlino risponde che è inaccettabile una simile accusa, soprattutto da Biden, leader di un paese, le cui azioni nella storia recente sono ben note. Il ministro degli Esteri russo ha poi comunicato di aver imposto non meglio specificate sanzioni contro 398 deputati americani e 87 senatori canadesi e la Cina, che spalleggia la Russia, accusa l'America di alimentare le tensioni. L'affermazione di Biden spiazza anche gli alleati europei. Il primo a uscire allo scoperto è il presidente francese Macron. «Bisogna stare attenti a quello che si dice», afferma subito. E queste parole non piacciono a Volodymyr Zelensky, che è sempre più soddisfatto invece dal comportamento degli Stati Uniti. Un ulteriore gesto di allontanamento dai paesi dell'Unione Europea dopo il bollino impresso al presidente federale tedesco Steinmeier di persona non gradita a Kiev. Poi sono arrivate le parole del cancelliere Scholz, che in un'intervista ha definito irritante il no di Zelensky, segnando un'ulteriore frizione tra Kiev e Berlino. E mentre si discute dell'adesione alla Nato di Svezia e Finlandia, arriva la minaccia della Russia. Quando accadrà dovremo rafforzare le truppe di terra e della difesa aerea nel Golfo di Finlandia.